In Calabria rappresenta uno dei fronti economici più remunerativi in agricoltura in questo momento. Il kiwi della piana di Gioia Tauro si sta avvicinando a lunghi passi verso il riconoscimento dell'IGP proprio per le caratteristiche organolettiche consustanziali al nostro frutto che ha un'ottima pezzatura, un elevato contenuto in gradi brix che è la dolcezza poi del frutto è un frutto consistente, è un frutto che si può conservare facilmente può essere commercializzato a distanza di mesi dalla sua raccolta con le medesime caratteristiche, con la medesima fragranza che contraddistingue il frutto commercializzato immediatamente subito dopo la raccolta. Abbiamo creato un pool di agronomi che hanno già redatto una brochure a livello nazionale per il riconoscimento e la cura della batteriosi del kiwi che saranno presenti domani nei nostri uffici oltre ai normali servizi che riguardano complessivamente la gestione delle imprese agricole ci sarà garantito anche il servizio degli agronomi che verranno in azienda in tutte le aziende che lo richiederanno a verificare la presenza del virus o comunque a garantire il minimo indispensabile affinché tutte le aziende vengano indirizzate verso le buone pratiche agronomiche.